Che bello! Dove siamo? Queste sono le nostre dolcezze. Wow, io ho le fragole. Che belle che sono! Questo è certo. Sei fortunata? Apro io. Che bel ghiacciolo. Con uno scarafaggio. Ok, meglio inserire delle tue fragole. Mi dispiace. Posso provare? Spero che me non si accorga. Cosa? Ridammela! No, voglio saciare. Ecco, mi è rimasta solo una foglia. Ti sta bene, Miranda? Queste sono mie. È così appetitoso? Ok, prendo un po'. Ma perché non mi piace vuoto? Dove sono? Miranda, l'hai fatta tu? Non negare. Ecco. Apre la bocca. Ma non voglio mangiare. Devi. Sei così crudella, Emma. È disgustoso. Ma l'hai mangiata? Ma c'era una scarafaggia. Oh, no. Mi ero accomodata a metodo di ricicata. Qui nella mia bocca. Che schifo. È viva. È terribile. Ma cosa devo fare? Ecco, prendi, prendi. Non ti avvicinare. Emma, sei nei guai. Fano? Non c'è nulla. Eccolo. Ma perché? Ce l'hai fatto. Adesso cadrà la segno a noi. Ma adesso non c'è. Non freddarci. È solo la tua testa. Oh, no. Ti salvo io. Che male. Ma grazie per l'aiuto. Ma il mio pianto non ha funzionato. C'è un uovo. Io avrò una prima. Un piccolo water. Ma comunque è bello. Ma cosa farai? Pensirò a qualcosa. Ma prima togli il coperchio. Oh, no. Che gommoso. Che bello. Sì. Hai estratto il tuo bilietto fortunato. È ora di infrescarsi. Oh, da dove cominciare? Da questo. Cosa stai facendo, Emma? Smettila. Dai, su. Che bello. Voglio continuare. Ok. Prendo un altro occhio. Mi piace. Non mi fermerò. Vuoi condividere? No. Ne ho pochi. Fai ridere. Guardati. Sì, non è il limite. Sì. Ho esagerato. Ok. Adesso posso vedere cosa ho io. Due reclecche. Non male. Guardate. Cosa stai facendo? È il mio. Io volevo togliere la confezione. Non ingannarmi. Mi sono dimenticata del water. Assomiglia a un'effrovescenza. Sì. È buono. Penso che è buono. Il caramello e l'acido. Stanno bene. Non mi fermerò. Devo provare. Di nuovo tu? Cosa sta facendo? Non colpirmi. Scusa, non volevo. No. Basta. Perdente. Posso aprirlo per prima? Grazie. Una fanta. Apri. Non ho rotto lunghe. Dai, ti aiuto. Io sono brava. È molto buono. Volevo provare. No, è mia. Sì, l'odore è ottimo. E il gusto sarà ancora migliore. Ottimo. Ma puoi condividere con me? Dai. Ma se non vuoi? Faccio da sola. Che bello. Ma cos'è questo? Ma Emma, di nuovo. Ma perché non scorre? Allora, ciao. Come stai? Sono una stufa. Ok. Fantamente. Mi dispiace. Era buono. La tonazzina. Mi ha volato in faccia. Dai, Smita. Apri. Non c'è. C'è un pulsante. Cosa ci faccio? Prova. Spingere. Ma chi è lei? Io lavoro con le armi chimiche. Ho qualcosa per lei. Per me? Ma non ha bisogno di nulla. Purtroppo non sta a voi decidere. Ecco. Prendo il pulsante. Ah, quasi minzicavo. Questa è un'area ad alta radiazione. Miranda? Come stai? Mamma. È così acido. Che incubo. Non so se li potrò mangiare. Mi spavento. Ma è fantastico. Devi provare delle nuove sensazioni. Sì. Ma forse... Mi fai assaggiare? Ma fa mangiare ancora un po'. Però è così ospuro. Ma mi piace. Comunque sei strana. Ok. Vado a provare. Ho bisogno... Di provare. Ma dove sono le mie caramelle? Ma io ho detto che... Le mangerò da sola. Mi è piaciuto così tanto. Che non potevo trattenere. Ma... Perché l'ho fatta? Ecco, devo nascondermi. È troppo ospro. Meno male che vi sono nascoste in tempo. Uno, due, tre. Ci comincio. Wow. Pop Kedzie. È una siringa con lo sierop. Sono contenta. Wow, è così bello. Vediamo cosa io. Cos'è? Assomiglia ad una... Tomba. Ho paura di indovinare cosa c'è dentro. Comincio io. Ok. Devo bere tutto. Prese. Che bello. C'è un po' dolce. Ok. Apro Pop Kedzie. Sono sicura che mi abbraccia là. Wow. È così luminoso. Incredibile. Emma. Dai. Smesso di certificare il naso degli affari degli altri. Questo è il mio cibo. Fa chiederti che c'è in bocca. Fantastico. Voglio ancora. È molto buono. Guarda. Devo spegnerti. Dai, sei duro. Lo sieropo dovrebbe aiutare. Non si mi leva. Sei arrivato in tempo. Ora tocca a te. Oh, ma perché me l'hai ricordata? Ho paura. Ho paura di aprire la scatola. Cosa? Non capisco nulla. Sembra un naccio spiccante. È terribile. La mia lingua brucia. Ma deve mangiare tutto. Sì. No, no. Ne vedo uscite. Ok. Adesso succederà qualcosa. Ma da fuoco? Aiuto. Oh, no. Non guardarmi. Oh, sto volando via. Aiuto. Sembra che sono tornata. Bene o male. Ma dove sei? Mi ronde. Qui. Guarda. Sono caduta. Non è un bel aspetto. E nemmeno tu. Chissà cosa ci aspetta. Ok. Pollo. Mi piace. L'importante è aggiungere la salsa. Così sarà più buono. Anche se... No, non voglio. Il mais. Che bello. Non c'è nulla in questa fanta. Guardate cosa. E allora tu cominci. Eh, dai. Strano. Perché non riesco a berla? Non è liquida. Cosa ci devo fare? Wow, una gelatina. Che bello. Dai, su. Comportaci bene. E condividi con noi che è meglio. Sì, sono d'accordo. E giù le mani. Non vi darò nulla. Che cattivo che sei. E anche avido. E va bene. Dai, ragazzi. Non disturbarmi. Ecco, ho finito. Non è stato difficile. Che appetito che hai? Ok, tocca a te, Emma. Però non voglio provare questa salsa piccante. Farò finta di versare la salsa. Ma non la verserò. No, no. Non passa. Dai, su. Oh, guardate. È molto, ma molto piccante. Guardate. È diventata rossa. Eh, dovrò mangiare questa. Anche se non è facile. Vabbè, penso che sia un pollo normale. No, non è aiutato. Vado a fuoco. Eh, ma dai, non gelarsi. Wow. Cos'è? Oh, guarda. Ha fatto il popcorn. No, dai, aiutatemi. Dai, calma, calma. È tutto sotto controllo. Ah, così. Ma meglio. Eh? Cosa? Ho bruciato il pollo. Ma io ho il popcorn. Che bello. Uh, così croccante. Non potevo sognare una cosa migliore. Oh, che noi vogliamo provare? No, no, no. Giù le mani. Non condividerò con nessuno. Guarda, John. Eh, le sue orecchie sono gialle. Ma perché vi guardate così? Eh, anche le vostre orecchie sono colorate. Wow. Strano. Vediamo cosa aspetta questa volta. Uh, una ciunga. Che bello. Che odorino. Sì, è piccola. Ma la mia angura è più grande. Ragazzi, siete fortunati. Io non lo sono. Guardate quanti barbi vivi. Buon appetito, Miranda. Apre la bocca. Dai, dolly. Non mangerò i barbi vivi. Non hai scelta. Mangia. Grazie. Ma il tuo consiglio non mi aiuterà. Non mi sento meglio. Eh, spero che sia buona. Eh, disgustosa. No, non mi piace. Basta. No, non puoi. Devi mangiare. Ecco, ancora. John, mi aiuti. Stai rovinando tutti. Si muovono in buca. No, non riesco a sopportare. Ma come fai a mangiare? È incredibile. Non ce l'avremmo fatta. Eh, sì, ma ricorderò questo tutta la vita. Non ho mai mangiato niente di peggio. Oh, no. I verbi ci sono bloccati. Non riesco a respirare. Ma cosa? È spottato in faccia. Scusa. È levato per casa. Eh, dai. Su. Dove va? Ok, ho già spaccato l'angure. Posso mangiarlo. Oh, che profumino. Dai, su. John. Ma il rosso è il mio colore. E quindi la pompa è rossa e la devo mangiare io. E io ti lascio le croste. Ma non è giusto. L'anguriera è mia. Sì, ma la vita non è giusta. E adesso. Allora, prendi le croste. Ecco, le ho liberate dalla porpa. Non ringraziarmi. E anche le ho scelte saranno. Non voglio avere niente a che fare con te. Eh, sono disgustose. Non li voglio mangiare. Va bene, la tua scelta. E quindi... Dai, ragazzi. Siete così divertenti. Sto ridendo. Dai, su. Ho visto un quasi minicato della gomma. Buono. Ecco, lei ha le cose più buone. Dai, su. Non inviziare. Guardate cosa so fare. Sì, adesso ti daremo una lezione. Ma perché non vedo nulla? Chi ha fatto questo? Che bel colore. Guarda. Il collo è colorato. Ok, dai, su. Andiamo. Cosa? Un granchio? È così spaventoso. Ha paura. Lo metto qui. Beh, tu capisci cos'hai. E io non so. Ma cos'è? Ah, che profumino. Le patazzine. Finalmente posso mangiare. E allora... Vai. Siete così carini. Sì, le patazzine sono molto buone. È calde. Mi piace. Posso mangiare tutto quanto. Ok, devo vedere cosa ho. Cosa? Un lecca lecca? E con l'interno cosa c'è? Buono. Mi piace. Lecca lecca è così buono. Voglio ancora e ancora. Non è giusto. Tutti quanti hanno delle cose buone. E io ho il granchio. Ma perché la vita è così ingiusta? È così duro. Ho quasi rotto i denti. Io so cosa devo fare. Io adoro le patazzine. Voglio mangiare ancora e ancora. Ma dove sono le mie patazzine? Non le vedo. Emma, l'hai presa tu? No, è il granchio. Scusa, non potevo fermarlo. Basta. Ritidiamo le patazzine. Eh, sta succedendo qualcosa. Sarà divertente. Va bene, va bene. E io proverò a mangiare il granchio. Cosa facendo? Lo preparo. Ecco. Non lo mangio crudo. Oh, non male. Oh no, la mia mano. Che caldo. Meno male che ho le pinze. Ok, posso serarlo fuori dall'acqua. Oh, che profumino. Adesso mi piacerà. Emma, ma sai cucinare? Giù le mani. Certo che no. Non chiedete nemmeno. Io lo mangerò da sola. È giusto. Oh, che buono che è. Oh, così tanta polpa. È incredibile. Guarda il tuo naso. Sono colorati. Dai, su, apriamo. Wow, io ho una ciambella. Che bella che è. Oh, volevo mangiare qualcosa di dolce. Finalmente posso mangiarlo. Io lecca, lecca. E all'interno? Un scorpione? Incredibile. Oh, vediamo. Che bella che è. Miranda, dai su. Io sono la prima. Vedi, sono già mangiando le ciambelle. Che dolce che è. Mi piace. Puoi condividere? Cosa hai fatto? Io, amorso, mio dito. Scusa. Ti aiuterò. Ecco, vedi il cerotto. No, meglio tu. Oh, la ciambella. Oh, che buona. Oh, non pensavo di essere così fortunata. Grazie per l'aiuto. Ma, dov'è la mia ciambella? John, ma non vuoi dire nulla? Ma sì, è tardi. Non voglio sentire nulla. Mangia il tuo lecca, lecca schifosa. Ma cosa facendo? Eh, ma è troppo. Beh, il lecca lecca non è così scusoso come pensavo. Ma come fai a mangiare? Sì, non posso guardare. A me piace. È un lecca lecca ed è normale. No. Io ho un scorpione. Che schifo. Prendetelo. No, dai, su. Oh, che paura. Ecco, ho finito. Tocca a te, Miranda. Sì, col piacere. Voglio mangiare le mie caramelle. Eh, era verde, quindi è mia. E questa è rossa, quindi è mia. Ma non è giusto. Prendete tutte le mie caramelle. Eh, vi devo dare una lezione. Adesso prenderete così tante caramelle. Cos'è facendo, Miranda? No. Oh, no. Prendete. Salvatemi come potete. Eh, ma. Devo prendere le caramelle con la bocca. Oh. Sì, le caramelle sono finite. Le metterò fuori ancora. Giella? No. Finalmente. È mia. Oh, aspettavo questo momento a lungo. Com'è? Ti piace? Sì, certo. A proposito. Le nostre maglie sono colorate. Ok, io vado per prima. Uh, guardate che orsacchiotto. È così grande. Sei così fortunata. Uh, che bontà. Mi piace troppo. Devo mordere un pezzo. Ma non ce la faccio. Devo fare qualcosa. Ah, ok. Devo strappare. Ottimo. Finalmente posso mangiarlo. Mi piace. Sì, è stupendo. Questa è la migliore gelatina. Devo mangiare ancora, ancora. Devo mangiare tutto. Eh, devi stare più attenta. Guarda, sei tutta quanta rossa. Miranda, tocca a te. Cosa? L'uovo cruda? Eh, no. Non è quello che mi aspettavo. Dai, su. Devi mangiare. Non può rifiutare. Mangia, se no ti aiuteremo. No, grazie. Ce la farò da sola. Anche se non sarà facile. Eh, che schifo. Non posso ingoiare. Dai, su. Mangia. Ti do una mano. Adesso faremo un frullato d'uovo. Ti piacerà? Allora, prendiamo un frullatore e mettiamo tutto quanto le uova. È molto facile. Guarda, che bello. Dai, su. Stai attento. Dai, su. Adesso facciamo il nostro cocktail. Fatto. E lo verso qui. Oh, incredibile. Anch'io vorrei provarlo. Grazie, John. Sì, non è male. Ma qualcosa mi dice che non è buono. Oh, sì. Che schifo. Non ce la faccio più. Ma perché mi hai spottato in faccia? Spero che il cibo mi aiuti. No. I piselli. Non mi piacciono. Dai, su. Mangia, John. Hai detto che queste le regole. Allora, devo almeno aprire. Non ce la faccio. Dai. È facile. Ecco. Fatto. Prendi. Grazie mille, Emma. E cosa farei senza idea? Io non mangerei questi piselli. Forse devo dare la possibilità. Non è poi così male come pensavo. Posso mangiare tutto quanto. Non pensavo che ti piacesse così tanto. Eh, sì. Ma c'è qualcosa che non va con me. No. Ragazze, scusate. Ma perché l'hai fatto, John? Stiamo per soffogare. Scusatemi. Probabilmente questa è la fine. Io ho solo le calecca. Non mi piace affatto. Oh, io sono più fortunato. Che bello. Alex, guarda la mia prozione. Le tue. Quale disce? Wow. Non posso crederci. Non ho mai visto così tanti le calecca. Cominciamo. Ok. Beh, non mi dispiace. Devo togliere gli involucri. Beh, non è un granchè. Non mi arrendo. Smettila di ridere. Oh, no. Ho rotto il mio lec-lec. Non pensavo che fosse possibile. L'importante è che il caramello è intatto. Che buono che è. Mi piace. Ma è già finito. Cosa è, Alex? Bello. Devo mangiare. Guardate che bravo che sono. Sì. Devo imparare da te. Basta. È ora di giocare in grande. Voglio mangiare tutto. Cosa vuoi fare? Non aver paura. Voglio schiacciare il mio caramello. Funzione. Non è rimasto molto. Che bello. Che forte che sono. Basta. Abbiamo paura. Ho finito. Ora dobbiamo versare il caramello qui. Oh. Tanto, eh. Che grande idea. Ok. Mi servirà un lec-lec intero. L'ho lasciato qui per un motivo. Posso metterlo qui e mangiarlo. Prattico. Peccato che è finito. Vabbè. Devo mangiare le briciole. Non è male. Che delizie. Non voglio fermarmi. Mi ha versato a metà oltre la bocca. Mila, tocca a te. Mi serve un osperapolvere. Spengalo. Scusate. Scusate. Ora posso mangiare lec-lec. Ma come fai a mangiarlo? Incredibile. Ehi. Penso che finirà male. Aveva ragione, Alex. Lec-lec mi sono bloccate. Non posso fare nulla. Ti aiuto. Senti forte. Attenzione, fai male. Cos'è quello? È la mascialla di Mila. Che incubo. Non c'è problema. L'ho già remessa. Quale è questo? Non riesco neanche a vederlo. Sembra un chicco di mais. Hai ragione. Ne ho un po'. Ne hanno odore. Ma avete capito? Potete fare buccorri. Ma non so come. Ok. Dobbiamo pensare a qualcosa. Ho un'idea. E se lo mangio così? Non ce la faccio. Difficile. Devo pensare. So cosa fare. Mi serve una piastra. Così preparo un popcorn. Com'è? No, ci vuole troppo tempo. Beh, cerchiamo, Alex. Ma dormiamo. Tu hai ragione. È troppo lungo. Ha funzionato. Che bello. Guardate, ragazze. Brava. Abbiamo credito in te, Mira. Spero che non sia in vana. Sì, è buono. Guarda te. Mi serve qualcos'altro, eh. Per preparare questo. Un far da stiro va bene. Sono sicura che funzionerà. Il tuo modo non era un granché. Wow, ce l'ho fatta. Veloce. Oh, sì. Bella sorpresa. Oh, no. Mi sono bruciato. Oh, caldo. Sei così buffa. Spero che mi aiuta. Fantastica. È molto buona. Come on! Faccio preparare tutto questo. Come l'idea? Cos'è questo? Una macchina per un corn. Ma non avete mai visto? Finirò a condusare. Per prima cosa, metto qui i chicchi. Wow. Fatto. Per ora, basta. Guardate, funziona. Il mio corn è pronto. Incredibile. Un vero miracolo. Sì, aggiungo altre chicche. Una persona troppo piccola. Sì, così va meglio. Oh, che bello. Sono rimasti un po' qui. Chi usa. No, c'è qualcosa che non fa con l'automacchina. Oh, che bello. Cosa? Un cancro? Mi spaventa. Non vuole toccarlo. Orribile. Bene, è solo uno. Guarda quanto ne ho io. Ma non dobbiamo aver paura. Non sono pericolosi. Non ne sarei sicura. Non riesco a immaginare come farò a mangiarli. Mila, comincia tu. Grazie, Alex. È un vero amico. Sai come se ne era in un momento difficile? Beh, non è come pensavo. Davvero? Sì, mi piace il sapore. Sono pronta a mangiare tutto quanto. Ah, che buono. Non mi spettavo una cosa del genere. Onestamente, sono sorpresa. Sì, era buono. Mila, dai. Lavati i densi. Cosa? Imbrazzante. Vabbè, non siete in colpa. Succede. Spero di gestire la mia operazione. Ok. Cominciamo. Da un morsa. Strano. Si muove. Ne prendo un altro. Viene male che ho la scelta. Ma prima tengo un guscia. Julie, non ci riconosco. Cosa stai facendo? Mi dica. Dovevo pulirli. Non è una scusa. Guarda cosa hai fatto. Scusate, ragazzi. Non era mia intenzione. Vabbè, prova. La mia ragione. È davvero delizioso. Wow. Ma peccato che non ho la versione più grande. Mi piacciono. Che appetito. Fantastico. Per trapanile non abbiamo nulla. Trocca ad Alex. Ok. Vi avete dato un grande esempio. Ora sono pronto a provare. Wow. Delizioso. Possiamo prenderne un po'? No. Avete già mangiato. Almeno un piccolo pezzo. Basta. Oddio, no. Voglio goderlo. Buono. La mia fama. Per favore. Vabbè. Questo vi basta. Oh, che ridere. Avido. Te lo ricorderemo. Dai, ragazzi. Stavo scherzando. No. Qui. Ma è vivo. Si muove. Ma che ci fai qui? Stai bene? Aiuto, mio morso. Fate qualcosa. Ma non giramelo. Che dolore. Ecco. Ce lo sei meritato. Ecco.